Ciao a tutti, benvenuti sul canale opendante delle mie lezioni online, sono Armando Pisani, insegno matematica e fisica e in questa playlist trovate le lezioni che ho ottenuto per il corso di fisica per il liceo linguistico per i ragazzi del quarto e del quinto anno, quindi troverete lezioni riguardanti la dinamica newtoniana, la gravitazione universale, l'elettrodinamica e se il tempo ci sarà di aiuto anche un po' di relatività speciale, spero che le lezioni vi siano chiare e vi siano utili, vi auguro buono studio e buona visione e vi ringrazio di aver visto il canale, grazie e alla prossima, vi invito a iscrivervi ovviamente e ancora grazie.